Musica Questa è la moto a scambio d'auto motociclo d'epoca che si chiede al palco su Sendwagro a Teglase, vicino all'area del Palco di Linase, tre volte all'anno C'è sempre più gente che partecipa a questa fiera, dove si può trovare effettivamente di tutto, auto e moto d'epoca ovviamente ma soprattutto tanti simi prezzi di riscambio, rottami, forse d'altro i tempi e comprare, scambiarle e soprattutto contrastare come se ci fossimo in vero mercato Musica 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 Musica